amici di milan.soccer eccoci un nuovo appuntamento dedicato al milan dedicato all'informazione rosso nera bene ben ritrovati per chi è solito frequentare il canale benvenuto a chi è nuovo ricordo a tutti come sempre l'iscrizione qui sotto semplice e gratuita e un like un pollicione a questo video date anche un'occhiata ai link in descrizione che possono essere sempre qualcosa di interessante per voi almeno così spero fare fatemi sapere insomma quello che più vi aggrada quello che più vi piace io personalmente ho pensato molto a che cosa scrivere in questo video o meglio cosa scrivere in copertina nella copertina di questo video perché parliamo tanto siamo in tanti ci mancherebbe non solo in questo canale in tanti canali tanti social insomma mi sembra che tutti andiamo verso una direzione poi però a conti fatti in realtà ho scritto in modo ironico ci mancherebbe altro a ragione gerry cioè mettetevi un attimo nei suoi panni tra spendere e non spendere il risultato è lo stesso e allora chi di noi spenderebbe beh per il milan tutti noi io in primis però visto che manca questo patos allora bisogna cercare di riequilibrare il tutto che cosa è successo a cosa mi riferisco beh innanzitutto mi riferisco al fatto che è iniziata la campagna abbonamenti e le parole di Ibraimovic secondo la gazzetta dello sport hanno eccitato gli animi dei rossoneri ma il progetto è semplice no bisogna fare lo stesso numero di abbonati dell'anno scorso in fondo siamo milioni quindi vuoi non trovare 40 mila persone che poi alla fine fanno l'abbonamento quindi perché spendere e fare una promozione portando un top player eccetera eccetera e infatti i dati danno ragione a gerry cardinale e cioè l'obiettivo che è quello dello stesso lo stesso di 12 mesi fa cioè registrare il sold out di tessere quindi 41.500 abbonati sta quasi per essere raggiunto dopo poche ore dall'uscita degli abbonamenti stessi quindi questo non ci aiuta perché oggettivamente la critica che è legittima e soprattutto finalizzata al bene del Milan inteso come capacità non solo di divertirsi una domenica ma di vincere dei trofei così viene un po accantonata non a caso parallelamente parallelamente alla buona riuscita della vendita degli abbonamenti che cosa parallelamente sta accadendo e cioè che il Milan sta abbandonando Sirkese perché la gente non scende scende di poco troppo poco il Milan non ha nessuna intenzione di pagare 15 milioni di commissione e allora ripiega su altri calciatori adesso è venuto fuori il nome di Samu Omorodion Samu Omorodion è un giovane giovanissimo perché un 2004 quindi venti anni fatti adesso a maggio quindi un giovanissimo spagnolo stavo guardando un gigante un metro e novantatré punta centrale e poi ancora 35 partite nove gol un assist cinque ammunizioni e la sua carriera beh chiaramente è chiaramente breve nel senso che poi l'Atletico Madrid lo ha acquistato e poi lo ha dato in prestito insomma fatto sta che in questo momento il suo valore si aggira attorno ai 35 milioni di euro su di lui ci sono anche il Napoli e la Roma oltre che evidentemente il Milan per carità sicuramente sarà un giocatore di di ottime prospettive sicuramente sarà un giocatore che potrebbe quindi uso il condizionale fare un minimo di differenza ma e questo è tutto da scoprire cioè noi manchiamo di certezze l'ha detto d'altro canto un indizio l'ha dato Ibraimovic sarà un mila ancora più giovane e questo porta a nomi come quello che ho appena fatto di omorodion per cui io mi chiedo come è possibile arrestare questa non voglia di vincere da una parte Ibraimovic ha usato la parola vincere vinceremo vincente penso 65 volte nella conferenza stampa però poi ciò che deve riportare sono i fatti e allora noi siamo così fragili da farci abbindolare da queste parole usate da Ibraimovic per vendere delle delle tessere per vendere degli abbonamenti non tutti anzi so già che i commenti a questo video saranno abbastanza critici nei confronti anche di tifosi che legittimamente comunque acquistano tessere acquistano biglietti acquistano abbonamenti perché il milan come dire si compra a scatola chiusa tutti noi siamo d'accordo perché si tifa a prescindere dalla serie dalla categoria e da tutto ciò che gravita attorno però se il nostro ruolo è uno cerchiamo di sfruttarlo è un po come quando si deve votare certo che non possiamo incidere su nessun tipo di azione politica però probabilmente a prescindere da cosa quando si va a votare almeno hai la possibilità di dire una parola ecco in questo caso il nostro voto politico è dato dall'acquisto delle 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 non delle schede ma degli abbonamenti è chiaro che chiunque se il risultato e l'obiettivo essendo 41.500 abbonati è in grado sarebbe in grado di raggiungerlo a prescindere da investimenti pubblicitari promozionali e in questo caso a prescindere dall'acquisto di top player uno che fa di mestiere la gestione il gestore di un fondo non ci pensa due volte cioè a dire no a un acquisto importante o a dire no a un procuratore d'altro canto l'obiettivo di gerry cardinale molto chiaro cioè arrivare tra i primi 4 e questo sarà il filo conduttore da qui a fino a quando questo signore non deciderà di vendere o di svendere perché poi quando andrai a vendere e non avrai vinto nulla sicuramente il prezzo si deprezza io come dire ho fatto questa riflessione è un record per il milan perché ogni volta che il milan ha fatto tante tessere tante abbonamenti ha sempre presentato anche chi ha una memoria berlusconiana lo sa ha sempre presentato acquisti importanti con esplosione di abbonamenti in questo caso il record è avere il sold out nonostante si sia conosciuto il nome dell'allenatore soltanto ieri nonostante non si riesca neppure a prendere zirkesi nonostante le promesse tante ma poi a conti fatti non riusciamo a vincere nulla quindi io faccio i miei complimenti ironici ma anche fino a un certo punto perché come 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 imprenditore tanto di cappello il problema è che noi non vogliamo un imprenditore noi vogliamo un imprenditore appassionato del milan tifoso del milan e perché lui dovrebbe esserlo considerando che a malapena o meglio la nostra storia non la conosce e sicuramente ha avuto solo l'unica cosa che ha saputo fare allontanare la nostra storia dalla dirigenza del milan e quindi ci ritroviamo adesso con ibra imovic che fa ancora il bulletto lì dicendo io sono dio ma ormai non ci crede più nessuno ibra bisogna che la smetta di dire tutte queste cose perché noi abbiamo bisogno di risposte di risposte concrete cioè nomi di calciatori date su cui obiettivi su cui intende reali su cui si intende lavorare quindi che cosa dire sold out a breve e non c'è ancora nessun acquisto ciao